Buona domenica da Maurici in Toscana e da Mauro Ciutini. Traffico scorrevole senza particolari disagi su strade e autostrade della nostra regione. Ci sono alcune chiusure previste in A1. Domainotte fino alle 6 di martedì chiusa per lavori l'uscita di Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Da martedì a venerdì, orario notturno, sarà chiusa la stazione di Firenze Sud in entrata verso Bologna in uscita per chi proviene da Firenze. Veniamo a lavori a Firenze in via Faenza per la posa di una infrastruttura della telefonia. Il tratto via nazionale via Cennini è chiuso, provvedimento in vigore fino al 21 di ottobre. Chiudiamo con i lavori alla tranvia, restringimenti fino alla fine di questo mese per i lavori che sono in via Gordigiani, via Buonsignori. È tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Guidate con prudenza più tardi. Grazie.